Bella raga E niente, questo sarà il mio primo torneo Quindi vi assicuro che Mi impegnerò al massimo Darò Appunto Il massimo che ho in corpo Auguro buona fortuna A Nick, Ludness Laser, Force Chaos, Flash Hard La piccola Roxy E a tutti i partecipanti E niente Buoni JC a tutti Grazie a tutti Grazie per la visione